ma guarda che borello è incredibile ma li vedi questi ragazzi il 26 febbraio in tutti i supermercati per ogni scontrino emesso verrà devoluto un euro in beneficenza agli insuperabili ovvero loro ma questa è una cosa bellissima sì così potranno comprarsi palloni, magliette, tute, porte, tutto ciò che serve per realizzare il loro sogno ovvero giocare a calcio no sì perché uno pensa che borello sia un supermercato invece no borello fa in modo che le cose diventino inaspettate quante buste vi do? grazie